Il cambio di allenatore durante l'anno Io devo fare complimenti a questa squadra che non ha mai mollato Nonostante le aspettative non fossero più rosse Tutti ci davano in Serie B a luglio, agosto, settembre Fino a quando non è arrivato il mister C'è stato un cambio importante Ci ha dato più consapevolezza dei nostri mezzi A gennaio è stato questo rafforzamento della squadra Dove abbiamo trovato un modulo tattico che ci ha fatto fare il salto di qualità E abbiamo raggiunto la salvezza In quei due mesi, gennaio, febbraio, inizio marzo Abbiamo raggiunto la salvezza Il grande rammarico mio è non stata quella di chiuderla a Siena E avremmo potuto fare un fine campionato diverso Da lì ci ha presa l'ansia perché abbiamo contato grandi squadre Però se avessimo chiudere a Siena Vincendo quella partita Probabilmente avremmo fatto un fine campionato diverso E forse tante critiche ce le saremmo risparmiate Tante situazioni difficili ce le saremmo risparmiate Però devo fare i complimenti ai miei compagni, al mister, a tutti Ai nostri tifosi che hanno avuto grande pazienza Ci sono stati sempre vicino, compreso oggi E devo dire che siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto E non a stagione non facile Cosa vi aspettate dal prossimo anno? Anzi tu in particolare, visto che hai il contratto, sei il capitano Rimarrai anche il prossimo anno Che cosa speri, che Bologna speri di trovare? Quello che aspettano tutti i tifosi Una situazione più serena da parte di tutti Della programmazione, della voglia di fare del buon calcio qua a Bologna In una piazza che secondo me merita di stare più in alto possibile Soprattutto programmazione per il futuro Cercare di non viaggiare anno per anno, partita dopo partita Ma cercare di fare una programmazione a lungo termine Perché questa società merita di stare in Serie A In maniera da protagonista Perché c'è una piazza che se lo merita Nel senso perché ama il calcio Perché porta gente allo stadio Perché è una piazza positiva Perché è una piazza civile Perché c'è grande amore per questo sport Dunque mi auguro come tutti i tifosi Di affrontare il prossimo futuro Con una programmazione importante Quindi quel meritiamo di più Che è stato lo slogan di tutta la giornata Lo sottoscrivi? Non mi metto in mezzo sotto questo punto di vista Perché non so se riferiscono i tifosi Non so se per le voci di cambi società Non so se non sono contenti di questa proprietà Io dico soltanto che in due anni con questa proprietà Abbiamo raggiunto la salvezza In situazioni sicuramente non facili Complicate E però speriamo di far tesoro Che facciano tesoro di questi due anni E di poter fare un prossimo futuro molto migliore Con più serenità Senti personalmente come è stato? Un anno difficile, due infortuni lunghi E poi se vogliamo nelle ultime partite Tra gol annullati, validi e rigori inondati Avresti sicuramente potuto fare molto di più Sì sì, è stata un'annata difficile Molto diversa da quella dell'anno scorso Sono partito purtroppo un infortunio Nel momento più importante della preparazione Dunque me lo so portato un po' dietro Al momento che avevo ripreso la forma Ho ricominciato a segnare in maniera con continuità È arrivato l'altro infortunio che mi ha bloccato Dovevo rifare la preparazione Rientrare in una situazione non facile Con la squadra un po' in difficoltà Non ho sfruttato al massimo il periodo positivo della squadra Forse avrei potuto fare qualche gol in più in quel momento Però alla fine sono andato in doppia cifra Quello che mi auguravo Per dare anche continuità all'annata dell'anno scorso Sapevo che non potevo ripetere i 24 gol dell'anno prima Ne ho fatti la metà per adesso Dunque speriamo di farne magari qualcun altro nell'ultima partita Sono contento di quello che ho fatto Perché sono stati gol importanti Perché come mi auguravo inizio anno Siamo andati in gol in più giocatori La squadra ha trovato il gioco più corale Soprattutto nel momento di forma migliore Gennaio, febbraio, marzo Quando stavamo bene andavamo in gol in parecchi Abbiamo fatto un buon calcio Dunque questa deve essere la fotografia nostra Per il prossimo anno Secondo me quello era anche un modulo importante Che ci ha dato soddisfazione E poi dopo sarà il mister insieme alla società Decidere chi chiederà a rimanere Perché ci sono tanti punti interrogativi E proprio di questo volevo ringraziare i miei compagni Abbiamo tanti in scadenza di contratto Tanti prestiti E in un momento topico difficile della stagione Nessuno ha tirato indietro la gamba Questo non va sottovalutato Perché magari quando avevamo raggiunto i 35 punti Ognuno poteva guardare un po' nel proprio orticello E rimettersi in gioco Non era semplice Io invece ho visto una squadra Un gruppo molto forte Che voleva raggiungere questo obiettivo Che era importantissimo e fondamentale per tutti noi E devo ringraziare tutti quanti Perché a prescindere da chi rimane Chi andrà via Devo dire che questa è stata la dimostrazione Di un gruppo molto molto forte Che non pensava al futuro Ma pensava a quello che poteva raggiungere In questo campionato E in più volevo ringraziare Noi siamo 27-28 giocatori E abbiamo giocato quasi sempre gli stessi Soprattutto nella seconda parte dell'anno E devo ringraziare tutti i miei compagni Che hanno giocato di meno Che si sono fatti trovare pronti Nel momento del bisogno E si sono sempre allenati Con grande professionalità Aiutando noi Che giocavamo di più A rimanere sereni A rimanere concentrati Sul nostro obiettivo Che era l'obiettivo comune Devo dire che sono stati Grandissimi professionisti Tutti i miei compagni Devo dire che Siamo stati fortunati Di avere Un gruppo così importante E di gente così seria Questo grazie anche all'allenatore E comunque la nostra voglia Di vorrei raggiungere Forse le critiche Che c'è più Poi erano addosso Da tutte le parti All'inizio anno E poi questa finale Ci ha unito ancora di più E ci ha dato grande forza Devo dire che siamo stati Molto bravi Allora Bene Salvezza Arrivata Con sei punti di vantaggio Alla penultima giornata È stata una festa Insomma Un saluto generale Anche perché tu sei in scadenza E non sai cosa succederà domani Va bene ma adesso Non ne parliamo Non ne parliamo Non parliamo Delle situazioni personali In questo momento È giusto sottolineare La grande gioia Che abbiamo tutti noi Perché abbiamo ottenuto Un risultato molto importante Siamo riusciti a salvarci Con una giornata anticipo In un campionato In una stagione non semplice Dove siamo partiti Con qualche difficoltà iniziale Se non ricordo male Quest'estate Questa era una squadra Che veniva un po' additata Come una delle probabili retrocesse Invece siamo qui A gioire A essere soddisfatti Per una salvezza importante Ottenuta con qualche difficoltà Però facendo anche Dimostrando anche in alcuni momenti Del buon gioco E sicuramente Va dato merito a tutti Di aver contribuito A questo raggiungimento Insomma In primis La società Poi L'allenatore Penso perché Quando è arrivato Ha fatto un ruolino di marcia Importante Insomma Non dimentichiamo che ha fatto 24 punti nel giorno di ritorno E manca ancora una partita Quindi In proiezione È un buon bottino No? E tutta la squadra I giocatori E il pubblico Perché anche oggi È stato eccezionale È stata Una dimostrazione di grande effetto Nei confronti di questa squadra Infatti noi siamo molto contenti Per loro Abbiamo visto una grandissima Corografia il primo della partita Quindi Vogliamo gioire con loro Per questo grandissimo risultato Qual è stato il momento Più critico della stagione Secondo te L'ultimo O quello all'inizio stagione? Ma Penso che L'inizio stagione Magari qualche difficoltà Poteva essere anche Giustificata Insomma Siamo partiti Con qualche problemino Poi dopo Penso che Il problema Diciamo Il momento più critico È stato soprattutto Dopo aver fatto Quel filotto Di partite importanti Essere tra virgolette Ripiombati Un po' Nella difficoltà Visto che abbiamo fatto Quelle cinque sconfitte Invece lì Siamo stati bravi A non disunirci E da lì abbiamo Abbiamo fatto un'altra vittoria Tra pareggi Che ci hanno portato A questa grande salvezza È stata anche la tua Miglior stagione Qui a Bologna? Beh non ne ho fatte tante Ne ho fatte due Quindi insomma Sicuramente Sono soddisfatto Anche dal punto di vista Personale Insomma L'anno scorso Ho avuto qualche problema Sono ripartito Con un grandissimo spirito Di rivalcio Volevo fare Vedere innanzitutto A me stesso E poi anche A tutti Che Salvatore Lanna Non era quello Dell'anno scorso Penso di esserci riuscito Ma Adesso sono molto contento Voglio di riposare Di godermi Insieme ai miei compagni E alla mia famiglia Questo grande risultato Grazie Grazie